Una importante missione in Australia per conquistare nuovi segmenti di mercato turistico e soprattutto per cercare una inversione di marcia rispetto al coronavirus. Il progetto Australia Tour di Ferrovie del Gargano e Turismo, nato da un'idea di Luciano Castelluccia, storico direttore artistico del Carpino Walk Festival, trasferita nella terra dei canguri, vi è un nuovo modo di cercare di convincere gli australiani di vedere e concepire l'operta turistica sulla montagna del sole, sulle isole Tremidi e sui monti Daoni, che ha plasmato in due offerte confezionate. Adesso occupiamoci di Super Ticket perché la regione Puglia si è attuata per ridurre il Super Ticket sanitario per i dettagli annaricciati.